La fortezza veste Prada. Rubiamo il titolo a questo famoso film che tanti anni fa fu predecessore del successo oggi consolidato del marchio aretino di alta moda per dire che Prada ha destinato un contributo di 200.000 euro al comune di Arezzo per gli scavi archeologici in fortezza per recuperare quanto resta dell'antica chiesa di San Donato. L'amministrazione comunale e la città ringraziano Prada e il suo amministratore Patrizio Bertelli, commenta il sindaco Giuseppe Fanfani. È un sostegno concreto a un importante progetto di recupero e valorizzazione, un significativo gesto che rafforza i legami tra Arezzo e il marchio leader. Il contributo di Prada è molto importante, annuncia l'assessore a lavori pubblici Franco Dringoli, perché ci consente di iniziare a breve i lavori per il recupero dell'area. Via libera dunque al primo lotto per 200.000 euro, il costo complessivo dell'intervento è previsto in 427.000 euro. Le indagini archeologiche del resto avevano avuto dei riscontri di gran lunga superiori a quanto ipotizzato all'inizio dei lavori e hanno consentito proprio di portare alla luce in tutta la sua monumentalità l'antica chiesa di San Donato, che risulta essere la più antica chiesa della città, poi distrutta dai francesi nell'anno 1800.